Ciao da Noemi! Uno strumento che non dovrebbe mai mancare in un garage è sicuramente il compressore. Sì, anche io ho un compressore nel mio garage. Perché? Beh, perché si tratta di un utensile davvero molto utile. Può essere utilizzato per moltissimi scopi diversi, come ad esempio per la verniciatura, la pulizia o il gonfiaggio delle gomme, ma anche per le vigature e sabbiature, anche se in quest'ultimo caso occorre un modello molto potente. Esistono diversi tipi di compressori. Numero uno, il compressore portatile. Come suggerisce il nome, si tratta della scelta migliore per chi necessita di mobilità e facilità d'uso. Questo tipo di compressore è consigliato per il soffiaggio, il gonfiaggio ed utilizzo di attrezzi pneumatici, possedendo pressioni fino ad 8 bar a portata dell'aria fino a 8 metri cubi l'ora. Numero due, il compressore monocilindrico. Si tratta della tipologia più diffusa e comprende tutti i compressori a pistone singolo, dotati di un unico cilindro azionato dal motore. Sono consigliati per lavori nel lungo periodo con attrezzi pneumatici. La pressione arriva nuovamente fino a 8 bar, ma la portata aumenta fino a 40 metri cubi l'ora. Numero tre, il compressione bicilindrico o multicilindro. Questa categoria raggruppa tutti quei compressori con due o più cilindri azionati da un unico motore guida. Vengono impiegati principalmente da professionisti nel settore e da grandi appassionati del fai da te. Sono consigliati per impieghi di officina, lavori di meccanica, carrozzeria, supportando il collegamento a numerosi accessori e possedendo le performance necessarie per eseguire al meglio ogni tipo di lavoro. La spesa è più ingente, così come le dimensioni, ma garantiscono pressioni fino a 13 bar e portata aria superiore ai 40 metri cubi l'ora. Nella scelta di un compressore, il primo aspetto da valutare è sicuramente l'uso che si farà dell'apparecchio. In caso di utilizzo industriale per alimentare macchine pesanti è consigliabile un compressore a pistoni conservatoio. Al contrario, se avrà utilizzato in ambito casalingo, per gonfiare le gomme ad esempio, allora potrà essere sufficiente un compressore portatile anche sprovvisto di serbatoio. Dopo l'uso, le caratteristiche che bisogna prendere in considerazione sono. Numero 1, la portata dell'aria. Per portata d'aria si intende il volume d'aria compressa erogata dalla macchina ed espresso in litri al minuto. Per gonfiaggio, verniciature e scalpellature sarà sufficiente un flusso d'aria compreso tra i 150 e 200 litri al minuto, valore che deve superare i 200 litri al minuto qualora lo strumento venisse utilizzato per lavori di sabbiatura o per più pesanti mansioni industriali. Numero 2, la capacità del serbatoio. Le dimensioni del serbatoio sono importanti perché influiscono anche sulla pressione generata. La presenza del serbatoio è fondamentale negli utilizzi industriali perché può anche non servire per scopi domestici. Per l'utilizzo occasionale è sufficiente un serbatoio inferiore a 100 litri, mentre per un utilizzo quotidiano è preferibile una capacità oltre 100 litri. Numero 3, la potenza. Esistono compressori con potenze molto alte ma sono riservati all'alimentazione di macchine industriali. La potenza dipenderà inoltre dall'alimentazione. Un motore elettrico sicuramente più ecocompatibile e comodo per i piccoli utilizzi non sarà adatto per tutte quelle emozioni più impegnative per le quali autonomia, continuità ed efficienza sono richieste. Numero 4, le dimensioni. Consulti possono tenere in considerazione soprattutto quando si prevede di utilizzare il compressore in spazi stretti e con poca libertà di movimento. In tal caso sono consigliati compressori portatili, piccoli e manovrabili, mentre apparecchi più ingombranti e potenti saranno adatti a spazi più ampi e funzioni più professionali. Numero 5, la fonte di alimentazione. Se si avrà a disposizione una presa di corrente, si potrà scegliere un compressore con alimentazione elettrica, mentre se al contrario si prevede di utilizzarlo in posti dove non c'è rete elettrica, si dovrà scegliere il motore a scoppio. Bene, questi sono i nostri consigli su come scegliere un compressore. Potete acquistare il vostro prossimo compressore su bpmpower.com. Sul sito troverete un vostro assortimento di marchi e prodotti per tutte le tasche. Divertitevi con i filtri per trovare quello più adatto a voi e se non vi basta, contattateci, saremo entusiasti di aiutarvi. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e se vi fa lasciateci anche un commento. Vi invito anche a iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare la campanellina. Ciao e alla prossima!